La gara, almeno per il Biceglie, sarà utile solo per le statistiche. La sconfitta casalinga per 3-0, rimediata dieci giorni fa al Ventura contro in Matera, ha di fatto virtualmente estromesso la formazione stellata dalla corsa alla qualificazione e agli incontri ad eliminazione diretta di Coppa Italia di Serie C. È vigilia comunque di un match ufficiale per i nerazzurri di Carlo Praier che domani pomeriggio, a partire dalle ore 17, sfideranno in trasferta la matricola potenza allenata dall'ex Nicola Ragno nel terzo e conclusivo incontro del triangolare della prima fase. Le attenzioni principali in ogni caso sono rivolte sia alle questioni in societarie che al mercato. La sessione estiva, lo ricordiamo, è ufficialmente chiusa ma c'è possibilità comunque di pescare dal calderone degli svincolati per completare l'organico. È fatta intanto per l'ingaggio del centrocampista Daniel Onesco. Il rumeno ha giocato per due stagioni ad Andrea con la Fidelis e nello scorso campionato di Serie C. Ha indossato invece la maglia del Catanzaro, vanta circa 150 presenze nella terza serie del calcio italiano, comprese quelle collezionate in due stagioni a Grosseto. In precedenza invece erano stati perfezionati i tesseramenti di Idrits Toskic, il centrocampista Montenegrino che ha giocato a Bicella nella passata stagione prima di essere svincolato, ed Andrea Bottalico, altro elemento per la mediana che ha conosciuto ed è reduce dall'esperienza nella massima serie del calcio di Malta con l'Amrum Spartans. A proposito di ex Fidelis, sembrano a buon punto le trattative per arrivare alle firme anche della difensora Ionutrada e del centrocampista Marcello Quinto. Capitolo societario. In attesa di comunicazioni ufficiali da parte del presidente Nicola Canonico, gli indizi di mercato e non solo degli ultimi giorni farebbero pensare ad un affiancamento in corso da parte della cordata composta da Vito Ipedico, Vincenzo Todaro, Umberto Quistelli e Vincenzo Audiello. Da non escludere, a breve o in futuro più lontano, anche il possibile coinvolgimento di Francesco Rossiello, il broker assicurativo Bitontino, cugino dell'attuale presidente del club Nero Verde, che aveva più volte provato ad acquisire le quote societarie del Biceglie durante questa calda estate.